ciao da 100% social e benvenuti in questo nuovo video il Frosinone non va oltre il pari nello scontro diretto contro il Lecce e vede avvicinarsi anche le squadre che si trovano attualmente nelle posizioni di retrocessione adesso la zona di retrocessione vista solo un punto un Frosinone che come mantra delle ultime partite va più volte alla conclusione ma non trova il gol che gli permette poi di portarsi in vantaggio nuovamente in questo caso dopo il vantaggio iniziale di Ghedira il Lecce ha approfittato di un errore della retroguardia con quel retropassaggio quel momento per come era la posizione degli avversari è stato decisivo per causare purtroppo il rigore rigore che Lecce in un primo momento non riesce a finalizzare con Cerofolini che è bravo a parare ma che il rigore viene fatto ripetere sulla ribattuta del calcio di rigore va questa volta Krestovic prima Rafa ce l'ha andato Krestovic prende il pallo poi la palla sbatte su Cerofolini e va in rete non ci dice bene neanche in questo tipo di situazioni e con un Lecce che poi difende il pari il Frosinone a diverse occasioni ma ripeto come più volte è capitato in altre partite non riesce a essere cinico sprega tanto e alla fine il risultato rimane sull'1-1 con una classifica che si fa veramente cortissima ma rimango dalla convinzione che questa squadra ha tutti i mezzi per salvarsi perché ha una qualità dal centrocampo in su superiore alle avversarie lo ha dimostrato in tutto questo campionato e certo la parte diciamo arretrata è la più battuta questo è sotto gli occhi di tutti però siamo sempre riusciti a compensare questa carenza difensiva con tutto l'apporto offensivo che creiamo che in una prima parte della stagione ci ha permesso probabilmente di fare molto di più di quello che ci si aspettava e non nascondiamocelo ma che ci ha visto meritatamente fare punti di stare in una posizione comunque sempre a una certa distanza dagli avversari stiamo facendo fatica ma era preventivabile non ci deve essere allarmismo perché comunque sapevamo di dover lottare fino alla fine di questo campionato probabilmente ecco ci sta venendo un po' di preoccupazione in più perché abbiamo fatto molto bene nella prima parte del campionato però siamo siamo sempre in linea con con quello che ci si era prefissato in inizio stagione è la Serie A bisogna lottare e abbiamo ripeto i mezzi per farlo bisogna essere più cinici inevitabilmente purtroppo paghiamo sempre il minimo errore e questo anche questa è una conferma ogni volta e ci ci in alcune situazioni non non siamo lucidi sotto porta lo si vede in altre non ci dice neanche bene perché dopo il il calcio di rigore del Lecce abbiamo avuto subito la palla per riportarci in vantaggio abbiamo preso la traversa con Gelli che dire è tutto un insieme di concatenazioni che in questo momento non ci sta premiando per quanto creiamo ma bisogna essere convinti di di riuscire a farcela perché è possibile abbiamo tutta tutto nelle nostre mani certo ci deve in alcuni casi dire bene in altri casi dobbiamo essere migliori noi nel fare determinate scelte ma ne verremo fuori poi piccola nota sul calcio di rigore ci può stare tranquillamente che mi venga fatto ribattere perché comunque ho letto anche cose un po' diverse diciamo tra la regola che chi se si invade ovviamente l'area l'ho fatto ripetere però c'è anche si arriva anche l'altra regola più recente per cui il giocatore che va a recuperare palla se non si trovava dentro l'area e poi riesce ad andare a recuperarla non è non deve essere fatto ribattere il calcio di rigore nel nostro caso questo è capitato con Valeri che non era entrato al momento del in cui il calciatore lecce ha battuto il rigore e poi è andato a recuperare è riuscito a recuperare palla poi viene detto che è d'ira che va a ostruire l'avversario ma se si vedono le immagini l'avversario non fa proprio lo scatto non accena nemmeno rimane anzi molto dietro tranquillamente che dira si entra per carità ma non è lui che va a recuperare poi palla quindi poi lì bisogna vedere quale regola applicare e gli arbitri hanno applicato la prima regola poi c'è anche questo da dire che sui calci di rigore ogni volta a questo punto devi stare a riguardare ogni minimo capello perché non so quante volte viene fatto ribattere un calcio di rigore sempre a discrezione a questo punto perché veramente bisogna andare a vedere una marea una sfilza di calci di rigore assegnati e sbagliati calciati e segnati e poi fatti ripetere o non fatti ripetere quindi lì bisognerebbe proprio riformare la regola che solo il giocatore va a battere e il portiere se segni bene se te lo para finisce lì l'azione sarebbe un po' da riformare questo comunque detto ciò noi ripeto è stato un punto potrebbero essere tre ci servirà direzione anche questo ma adesso dobbiamo andare nell'altra sfida salvezza un altro scontro diretto importantissimo contro il sassuolo ancora più carichi perché possiamo farcela convinti un po' più cinici un po' più attenti per questo video è tutto vi invito a schercare il canale e mettere mi piace e noi ci vediamo alla prossima per sassuolo frosinone ciao